Se oggi l'Italia è sorvegliata speciale della Banca Centrale Europea per i suoi 349 miliardi di crediti deteriorati, di fronte ai quali i 2 miliardi di carrife sembrano noccioline, se non fosse che rimetterci, sono stati tanti risparmiatori ferraresi, questo accade sempre secondo l'inchiesta di Report, anche perché lo Stato non ha provveduto per tempo ad accorrere in aiuto delle sue banche, come è fatto invece subito nel 2008 non solo dagli Stati Uniti, ma dalla Germania, Reunito, Spagna, Irlanda, Belgio e Portogallo. Oggi il tonfo del nostro sistema bancario sta costando più di 20 miliardi allo Stato, intervenuto tardivamente in soccorso di Montepaschi e Banche Venete. L'intervento infatti arriva sulle macerie delle banche crollate in questi ultimi due anni, a partire da quando è entrato in vigore il bail-in, che vuol dire che a pagare le crisi bancarie sono stati anche azionisti e obbligazionisti. Tutta colpa della politica incapace, si chiede a Report, e la risposta, almeno per Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, parlamentare PD in quota Emiliano, è totalmente affermativa. Troppo debole Renzi verso le banche stranieri, dice Boccia, che neppure accenna al freno esercitato dal peso del debito pubblico italiano sulle possibili politiche di aiuto alle banche. La trasmissione, però, magistralmente condotta a due voci in studio da Sigfrido Ranucci alla guida dopo Milena Gabanelli di Report e da Paolo Mondani, autore dell'inchiesta, conclude andando sul presente e su ciò che ci aspetta nell'immediato futuro. Così, mentre ricorda la politica di due pesi di misura della Banca Centrale Europea, che su pressione del governo tedesco sta proteggendo la Deutsche Bank e i suoi 4 trilioni di euro di derivati, una cifra persino difficile da immaginare, è in grado forse di trascinare molte banche e molti stati e forse per vacillare la stessa Germania in un eventuale tracollo, ci ricorda con Marcello Minenna, economista della London School of Economics, che il 2017 potrebbe essere per l'Italia l'anno della tempesta perfetta, per i troppi nodi che stanno per venire al pettine. Tra questi, la ratifica in autunno del Fiscal Compact, responsabile dell'austerity imposta dall'Unione Europea ai paesi in difficoltà con i conti pubblici. Che fare? Per Sigfrido Ranucci, solo un accordo tra Francia e Italia all'interno dell'Unione per cambiare la politica tedesca massima sostenitrice delle politiche di austerity potrebbe scongiurare nel pericolo, creando le condizioni per nuove politiche di investimento anche nel nostro paese e quindi nuove opportunità di lavoro.